Allora, tre animatrici di questo Grest 2016 a Roccaforte del Greco, lei Antonella Cento, Maria Gui e Maria Cento, bene. Allora, 15 giorni qui con i ragazzi di Roccaforte, non sono numerosissimi, però si sono divertiti, vi siete divertiti? Sì, tantissimo come ogni anno alla fine, è sempre bello, è sempre una bella esperienza, è sempre nuova, anche se magari l'abbiamo già fatto tanti anni, però è sempre una cosa nuova, c'è tanto divertimento, i bambini, vabbè a volte ci sono scontri, però poi alla fine è bello. Ecco, è bello anche perché si fa... Prevale la gioia, la simpatia, stare insieme, tutta cosa che vuole. Ecco, si fa poco a Roccaforte, meno male che c'è il Grest allora, insomma... 15 giorni, 15 giorni, la cosa più bella che vi ricordate? L'affetto dei bambini, l'affetto, la gentilezza dei nostri bambini di Roccaforte e l'intelligenza soprattutto. Ecco, ma si sa, noi della montagna siamo più intelligenti di quelle del mondo, ma è una magra consolazione, però va bene. Adesso stasera avete preparato una serata di chiusura particolare, ho sentito, sarà una specie di treno dei ricordi, ecco, diciamolo in due parole, questo treno... È un treno dei ricordi che praticamente rappresenta e racchiude tutto ciò che abbiamo fatto. Quindi staremo un'oretta a godere di questo... La rappresentazione la faranno i ragazzi stessi, i bambini stessi, i ragazzi, i bambini. Sì, sì, sono balli, canti... Ecco, ma chi vi ha fatto più disperare? No, nessuno, dai. Tutti e nessuno, dai. Tutti e nessuno, dai. Tutti e nessuno, dai.